Allora, per me è stata proprio una rivelazione improvvisa. Un giorno la prova di scienze spiegava il cuore e io ho pensato posso rinunciare a seguire questo genere di lezioni per il resto della mia vita? No, non posso. Questo è quello a cui non posso rinunciare. Check! Il momento più bello è sempre quando una donna con l'epilessia che io ho portato ad avere una gravidanza serena arriva a portarmi il suo bambino o mi fa vedere una foto del suo bambino e vedere questa felicità è sicuramente il momento più bello. Check! Penso che sarebbe una canzone molto carica, ad esempio Guns of Brixton dei Clash. Check! Spero che debba ancora venire, però comunque forse il momento più bello per ora, senza sopravvalutare questo onore, è stato quando mi hanno chiesto di essere responsabile della Commissione Epilessia e Genera della Lega Italiana contro l'Epilessia. Check! Mi tiene con i piedi per terra il fatto che ormai ho imparato che i successi e i fallimenti sono temporanei, dopo le cose cambiano sempre. Check! Allora magari col fiato sospeso ci sto se... se sto aspettando che una rivista mi risponda se mi prende un articolo. Check! Io lo incoraggerei tantissimo perché potrei solo dirgli che effettivamente è il mestiere più bello del mondo. Non ho altri consigli particolari. Check! No, non posso dire qualcosa di ridicolo su un paziente.